Mi occupo del mercato professionale, il mercato B2 in particolare, rivolto al mercato educational e non solo, con grossa focalizzazione sul mondo universitario. La ragione per cui siamo qua oggi a questo evento è il poter presentare, poter conversare con i convenuti circa le soluzioni che Sony propone per il mondo universitario che sono legate alla collaborazione, alla interattività, alla cattura delle lezioni, a tutte le attività che rendono facile la vita degli studenti dentro e fuori i campus universitari. L'intervento è un intervento di carattere a base generale, cerco di non andare troppo sui singoli prodotti, cerco di parlare più di approccio, fammi dire di strategia in qualche modo, che è l'approccio di Sony verso la lezione interattiva e la lezione partecipata andando incontro alla tendenza frequente nelle università del cambio di sistema di lezione, non più lezione frontale, uno a molti, ma lezione interattiva, lezione partecipata e anche, perché no, il tipo di lezione flipped o blended, cioè modalità innovative di dare e ricevere informazioni da parte delle professori e da parte degli studenti. Sony propone un ampio catalogo di soluzioni integrate, tutte sviluppate e vendute e supportate dalla struttura di Sony europea, in grado di soddisfare le esigenze di gran parte delle requisite che il mondo universitario in questo momento richiede.